Alina e Cristina hanno trascorso gran parte degli ultimi tre mesi sottoterra. Mi sveglio, mi lavo i denti, poi faccio colazione e mi preparo per la lezione. Dopo scuola mi riposo un po' e pranzo. E poi giochiamo in strada, ma quando partono le sirene antiaeree continuiamo a giocare nel rifugio. Quando ci bombardano la mamma scende da noi mentre papà resta al piano di sopra, ma quando i bombardamenti sono pesanti anche lui viene giù. Voglio solo che tutto questo finisca, dice Alina. L'invasione russa in Ucraina ha avuto effetti devastanti sulla vita di molte delle persone nella città di Mikolaiv a sud del paese. E come in tutti i confini, a pagarne le spese sono soprattutto i bambini. Credo che nessun bambino sia stato risparmiato da questo conflitto, dice Joe English, portavoce dell'Unicef. Nella peggiore delle ipotesi i bambini sono stati per settimane vittime di violenza. Molti di loro sono stati costretti a vivere per mesi nei rifugi. Questo può generare disturbi da stress post-trauma, continua il portavoce. Molti dei bambini rischiano di restare invalidi o di subire conseguenze ancora peggiori. Sono 200 i bambini che hanno perso la vita dall'inizio della guerra. Jack Shonkoff, direttore del Centro sul Bambino in Età Volutiva dell'Università di Harvard, ha spiegato che non serve la scienza per capire che questi bambini resteranno segnati a vita per questo. Il dottor Shonkoff ci dice che i bambini si trascineranno con loro le cicatrici di questo conflitto ben oltre l'età adulta. Quando il nostro organismo si trova in queste situazioni, il livello di ormone dello stress aumenta nel nostro sangue. Il nostro battito cardiaco aumenta e con esso la pressione sanguigna. Il sistema immunitario viene attivato e l'infiammazione è elevata nel corpo. Aumentano anche i livelli di glucosio nel sangue, portando energia alla mente per aiutarla ad agire più lucidamente e ai nostri muscoli per muoversi più in fretta. Se i livelli non tornano al livello base, ci possono essere gravi effetti celebrali, che possono influire sul nostro comportamento, sullo stato mentale e sulla salute psichica, ma anche sul sistema cardiovascolare, sul sistema immunitario e sul sistema metabolico, producendo un effetto di usura. E se gli effetti sulla mente sono incredibilmente importanti, lo sono anche quelli che si presentano più tardi a livello fisico, continua Shonkov. Quando il padre di Alina e Cristina parla di quello che potrebbe succedere alla sua famiglia, lui ammette tutta la sua insicurezza. Non saprei cosa si può pianificare oggi. Possono bombardarci da un momento all'altro e non c'è nulla da poter immaginare. «Basta un razzo e smettiamo di vivere. Viviamo giorno per giorno». Ora guarda la camera proprio così.